Avete mai sentito parlare di questa cosa chiamata la finestra di Overton? No, non è un elemento architettonico di lusso. È una teoria politica su quali idee sono accettabili da discutere in un dato momento. In pratica, è come un campo di forza invisibile attorno a ciò che noi, come società, pensiamo sia fico o completamente assurdo. Immaginate una finestra con un mucchio di idee che fluttuano all'interno. Alcune idee sono proprio al centro, immerse nella luce del sole, il che significa che tutti sono d'accordo. Pensate, tipo, indossare i pantaloni in pubblico, roba abbastanza normale. Poi ci sono idee che sono molto al di fuori della finestra, nascoste nell'ombra, cose che la gente pensa siano completamente folli. Tuttavia, la finestra di Overton è in continuo mutamento. Idee che un tempo erano considerate radicali possono diventare mainstream nel tempo. Ok, quindi come si muovono effettivamente le idee attraverso la finestra di Overton? Non è che arriva una specie di magico lavavetri e riorganizza tutto. È un processo graduale, un po' come quando convinci il tuo amico a guardare quel bizzarro documentario che ami tanto. Per prima cosa, hai le idee impensabili, quelle che fanno venire la pelle d'oca e svenire. Nessuno vuole nemmeno parlarne, perché sono troppo fuori dal mondo. Pensate, tipo, l'ananas obbligatoria sulla pizza. Disgustoso, vero? Poi ci sono le idee radicali, quelle che iniziano a essere sussurrate a bassa voce. Queste sono le idee che fanno alzare un sopracciglio. Ma forse, solo forse, stanno iniziando a far capire il tuo punto di vista. L'ananas sulla pizza è ancora sbagliata, ma forse possiamo almeno essere d'accordo sul fatto che le acciughe sono un abominio. Poi ci sono le idee accettabili. Queste sono quelle che vengono dibattute alla luce del sole, con persone da entrambe le parti che esprimono opinioni valide. È qui che le cose si fanno interessanti, perché è qui che avviene il vero cambiamento. Siamo realistici per un secondo. Tutta questa faccenda della finestra di Overton può sembrare un po' astratta. Quindi guardiamo alcuni esempi concreti. Ricordate quando le donne che indossavano i pantaloni erano considerate scandalose? Sì, è successo davvero. Ora è assolutamente normale e molto più comodo, siamo onesti. O che dire dell'idea del matrimonio gay? Solo pochi decenni fa era completamente impensabile per la maggior parte delle persone. Ora è legge in molti paesi e sempre più persone si stanno convincendo dell'idea che l'amore è amore. E non dimentichiamoci di tutta la questione del lavoro da casa. Prima della pandemia, l'idea di lavorare da casa era vista come, tipo, oziare in pigiama tutto il giorno. Ok, ora probabilmente starete pensando. John, è tutto molto interessante, ma perché dovrebbe importarmene? Beh, amici miei, capire la finestra di Overton è fondamentale per chiunque voglia fare la differenza nel mondo. Pensateci. Se volete creare un vero cambiamento, dovete capire come spostare la finestra di Overton. Dovete sapere come prendere un'idea dalla frangia e renderla parte del dibattito mainstream. Questo è particolarmente importante per attivisti, politici e chiunque altro stia cercando di sfidare lo status quo. La finestra di Overton vi offre un quadro per capire come far sentire la vostra voce e come creare un mondo in cui le vostre idee non solo siano accettate, ma anche celebrate. Sezione 5. Overton, gli attivisti e voi. Un matrimonio. Combinato in... beh, politica. Parliamoci chiaro, gente. La finestra di Overton non è solo un concetto astratto. È un potente strumento che può essere usato per il bene o per il male. E in questo momento ci sono molte persone là fuori che cercano di usarla per i propri loschi fini. Pensate a tutte le cose folli che vedete accadere nelle notizie in questi giorni. Dal negazionismo climatico agli attacchi al diritto di voto, ci sono persone là fuori che cercano attivamente di spostare la finestra di Overton in una direzione pericolosa. Vogliono far sembrare normali idee estreme e ci stanno riuscendo piuttosto bene. Ma ecco la buona notizia. Possiamo reagire. Sezione 6. Il futuro di Overton. Tecnologia, globalizzazione e il vostro cervello su internet. Tenetevi forte, gente, perché le cose stanno per farsi davvero selvagge. Con l'avvento di internet, dei social media e di tutto quel jazz, la finestra di Overton sta cambiando più velocemente che mai. È come se qualcuno l'avesse messa su un'astronave e l'avesse sparata nell'iperspazio. Internet ha dato voce alle comunità emarginate e ha contribuito a diffondere la consapevolezza su questioni importanti che un tempo erano tabù. Ma ha anche creato un terreno fertile per la disinformazione, i discorsi di odio e ogni sorta di altra roba brutta. È più facile che mai per i cattivi attori manipolare la finestra di Overton e diffondere le loro ideologie odiose. Sezione 7. La finestra di Overton e voi. È più che sola politica. Ora, potreste pensare, John, questa faccenda della finestra di Overton sembra terribilmente politica. E avreste ragione. Ma non si tratta solo di politica. Questo brutto ragazzo influenza tutto. Stiamo parlando di moda, musica, cibo. Persino di quale razza di cane è considerata in... È tutto influenzato da questa finestra subdola. Ricordate quando i jeans skinny andavano di moda? Ora, la gente sfoggia quei pantaloni a gamba larga come se niente fosse. Questa è la finestra di Overton in azione, amici miei. Sezione 8. E adesso? Navigare tra le sabbie mobili dell'accettabilità. Quindi abbiamo parlato di cosa sia la finestra di Overton, di come funzioni e di perché sia importante. Ma la grande domanda è, cosa facciamo con queste informazioni? Come ci orientiamo in questo mondo folle in cui i confini del discorso accettabile sono in continuo mutamento? Beh, per cominciare, dobbiamo essere consapevoli della finestra di Overton e di come venga manipolata. Dobbiamo essere pensatori critici, mettendo in discussione tutto ciò che vediamo e sentiamo, soprattutto su internet. Ma non basta esserne consapevoli. Dobbiamo anche impegnarci attivamente nel plasmare la conversazione. Sezione 9. Continuate a pensare. Amici, la finestra di Overton è sempre lì. Bene gente, ecco a voi. La finestra di Overton esiste, è potente e sta plasmando il nostro mondo in modi che potremmo non renderci nemmeno conto. Ma la buona notizia è che non siamo impotenti. Comprendendo come funziona la finestra di Overton, possiamo iniziare a recuperare la narrazione e a creare un mondo che rifletta i nostri valori. Quindi, la prossima volta che vi sentite sopraffatti dalle notizie o scoraggiati dallo stato del mondo, ricordatevi della finestra di Overton. Ricordate che il cambiamento è possibile, ma richiede tempo, impegno e un sacco di persone disposte a dire la verità al potere. Continuate a parlare, gente. Grazie.